Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con Tomb Raider Siamo nell'imboscata, o meglio siamo nella fortezza e ci vogliono fare una bella imboscata Ma ci divertiremo a tutto spiano, ricarica Mamma mia, Sam, siamo riusciti a liberarla Però praticamente l'abbiamo nuovamente persa Che cacchio è che rompe l'anima Bella con la pistolina La nostra amata pistolina, chi c'è qua dietro? Cacchio, abbiamo finito queste tutte le munizioni, eh Vieni qua, vieni qua A posto Oh, attenzione, una alle spalle, vieni qua Oh E dai Vai, 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 corri, 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 corri Voilà Perfetto Oh, cacchio, questa è esplodendo di tutto La prescelta è fuggita Andate subito a cercarla Oh, ma che fai? Cacchio ragazzi La cosa si mette male Ok, uno l'abbiamo fatto secco, manca l'altro Vai Preso Vai Oh Scappate dalle fiamme C'è stata una luce Andiamo verso la luce, va? Ok Quanto è munizioso è rimasto? Ah, ma c'ho qualcosina, va? Io pensavo che c'avessi solo l'arco Andiamo con il fucile a bomba Ok Uh Fuggita al palazzo, perfetto Piano ragazzi Bello, bello Ok E dai Piano Scappati questi Guardi alcuni sono morti Aspetta Aspetta A posto Via Attenzione Vedo avvicino un pochetto Perché il fucile a bomba Cacchio vai Oh Voilà Altri due fuori Attenzione ragazzi Recupera Via Mamma mia Ci vorrebbe qualche bella bombetta Oh Doppia Per nulla sto fucile a bomba Attenzione Noi munizioni Piano 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 Attenzione a questo con lo scudo Oh Preso Ok Preso Ricarica Ricarica Amica mia Ricarica Ai A posto A posto Mamma mia Ok Quanti ce ne sono Quanti ce ne sono Recupera A posto Mamma mia ragazzi Mamma mia Sempre Sempre peggio Più rogne possibili Arco Ok Prendiamo tutto quello che troviamo Che non si sa mai Le munizioni qua serviranno come il pane Andate Tutti quanti Trovate la prescetta Oh cacchio ma questo Chi diavolo è Via 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 giù Mamma mia Ma chi è questo È devastante Via da qua Via da qua Vieni fuori Oh cacchio Oh cacchio Questo cacchio posso andare Via 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 Qua dietro Ok Qua non mi puoi fare niente Oh cane sto tizio Che ci passa Non posso colpirti eh Ma vorrei capire da che parte Si può andare Un po' se così riesco a vedere meglio Non riesco a vedere appigli per salire Eccola Allora Allora La possiamo andare Vai 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 Lara Vai Lara Vai Lara Ok Piano Piano Ci vedrà qua Chi ci ha visto Chi ci ha visto Corda Corda Vai Mamma mia Mamma mia Che numero che stiamo facendo No R2 Spara Vai Preso eh Mamma mia Lancia granate Tipo pistola Lancia razzi Morto Di me che è morto Lancia granate Nuova attrezzatura Perfetto Quel tizio che è morto Lancia granate Premier 2 Per distruggere Barriere metalliche Con il fucile Automatico Ok Così Perfetto Venti Vedo una mazza Poi sta qualcuno Venti Vai qua Attenzione ragazzi Bello Qua niente Vai Te piace Sì Nenti Ragazzi Mamma mia Mamma mia Quello mi è esploso davanti Bellissimo Bellissimo A posto Mamma mia Ora si che ci divertiamo Ragazzi Ora si No Sta qualcuno ancora Muori A posto Prendi qua La fortezza Dei solari Allora abbiamo Un'abilità Fucile a canne mozze Modifica arma Da fucile da trincea A fucile a canne mozze Perfetto Allora abbiamo Un punto abilità Che ci spariamo subito E andrei Su Caccia Combattimento Questo fatto Maestria piccola Usa la piccozza scalata Per attaccare amici Con colpi micidiali Perfetto Questo l'abbiamo fatto Ora ci andiamo a fare Qualche potenziamento Perché ci abbiamo 787 Di materiali Allora Fucile a pompa Noi fucile Farei il fucile automatico Che è questo qui Che ci abbiamo anche Il lanciagranate E ci mettiamo Il freno di bocca Benissimo E se non sbaglio Potremo fare un altro Potenziamento Doppio caricatore Bello Ora si che questo È devastante Lanciagranate Doppio caricatore Meglio di così A posto 137 Ce li teniamo per dopo Così facciamo tutte Le altre varie cosette Vediamo se ci sono Un po' di Di armi Qualcosa Per terra No dobbiamo scalare Questo vediamo un po' Se l'abbiamo fatto Ok Lecce i materiali C'era Ok Qui dobbiamo salire Qui su Dove c'è la piccozza Andiamo Perfetto Andiamo Saliamo Piano Qua ce ne stanno Due morti Anzi uno Preso uno Ok Andiamo Dobbiamo cercare Sam Qua che c'è Piano Oh Attenta Lara Attenta la testa Piano 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 Ok Perfetto Qua che c'è Qua non si possono fare Oh Così possiamo Rifocilla Piano Piano Così Sembra Alquanto Tranquillo Lasciatemi 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 in pace Vieni Non ti faremo del male Sam Scappa Andiamo a raggiungere Sam Tenta Lara Ok Allora ragazzi Fermiamoci qui E nel prossimo video Andiamo ad aiutare La nostra cara Piccola Sam Al prossimo video Con Tomb Raider E nel prossimo video